Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi prepariamo una semplicissima torta al caffè. La ricetta che preparo io è un adattamento di quella preparata dalla chef inglese Lorraine Pascal e lo specifico la trovate nel libro Fast Fresh and Easy Food che vi linko in descrizione. È una torta davvero semplicissima da preparare che come vedete negli ingredienti qui contiene anche un buon numero di noci sminuzzate. Se al termine del video la ricetta vi è piaciuta, un thumbs up come al solito. Lasciatemi un commento e se state cercando altre ricette simili potete visitare il mio blog LaCuchinaSopraffina.com. Non dimenticate poi di iscrivervi al canale dove ogni settimana troverete nuove ricette e nuovi viaggi agno gastronomici nel mondo. Bando alle ciance, andiamo in cucina a preparare questa buonissima torta al caffè. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!